Buongiorno a tutti, mi chiamo Giuseppe Clemente e collaboro con la piattaforma www.nuovamente.net, che potete trovare anche sulla pagina Facebook Nuovamente. Mi occupo di costellazioni familiari, sono un costellatore e conduco dei gruppi in varie località d'Italia, così come anche dei percorsi di formazione specifici in costellazioni. Ho anche pubblicato due libri, naturalmente di costellazioni, sul tema della coppia e sul tema del lavoro. Come formazione ho una laurea in scienze politiche e ho anche fatto un percorso in programmazione neurolinguistica e ipnosi ricksoniana, così come altri percorsi di crescita personale e di crescita spirituale. Mi sono avvicinato e mi sono specializzato in costellazioni familiari proprio perché le ho trovate estremamente efficaci. Bert Hellinger, un signore morto da poco, il creatore di questo metodo, ha individuato delle regole, delle regole, era un ex missionario, un ex prete e li ha chiamati queste regole ordini dell'amore. Sono regole che sottendono al buon funzionamento del sistema in quanto le costellazioni fanno parte dell'approccio sistemico dove l'individuo non è visto a sé stante ma in relazione ad altri componenti del sistema e permettono di individuare quando queste regole vengono violate, da dove originano i nostri problemi e le nostre ferite più profonde arrivano proprio dal nostro sistema e come poterle riconoscerle, come diventarle consapevoli, come poterle trasformare. Sono state così efficaci su di me che ho desiderato prima prenderle e poi dopo lavorare con le persone e addirittura anche formarle. Nelle prossime puntate vi parlerò in modo approfondito sia dei miei libri che delle costellazioni familiari in generale. Mando un saluto a tutti gli amici della piattaforma nuovamente.net. A presto.